Stavo per trascorrere la giornata in un piacevole gruppo di amici, godendomi il mio viaggio programmato e utilizzando una mappa del percorso prestabilita. L'aria calda di ottobre si riempiva di lievi aspettative, ma un'improvvisa telefonata di Alessandro mi fece uscire da uno stato di calma. La sua voce suonava abitualmente piatta, ma ho imparato molto tempo fa a distinguere tra sottili sfumature di ansia. È tornato a casa tardi nelle ultime settimane e, a volte, l'ho sentito parlare con Francesca, sua cugina che non ho mai veramente conosciuto. Le loro conversazioni sembravano troppo leggere, in qualche modo troppo frequenti per sembrare innocenti. In queste ultime conversazioni, l'ombra della trama si nascondeva come se stissero tramando qualcosa alle mie spalle. Ho visto Alessandro allontanarsi sempre di più, immergendomi in questo strano gioco con Francesca, e non ho lasciato la sensazione che si fossero uniti per uno scoto. Ma ero pronta. Sure se avrei dovuto fingere di essere sorpresa, ma dentro lo statevo già, questo giorno sarebbe stato la chiave. Oggi Alessandro stava partendo per il suo viaggio, e non credevo che fosse solo una coincidenza. Se stava da D'Iro cercando di ingannarmi, il suo gioco stava volgendo al termine. Fino ad ora, ho supportato sperando che tutto andasse bene, ma qualcosa è cambiato dentro di me. Non volevo più rimanere un osservatore esterno. È tempo di reagire, non solo Alessandro, ma anche Francesca. Mi consideravano comodo e obbediente, ma presto scoprono che qualcuno nella loro cerchia ristretta sta già giocando dalla mia parte. Cucco il segreto diventerà chiaro non appena quel giorno sarà finito. Mi chiedo se almeno lo indovinino? Probabilmente no. Spero che il loro viaggio abbia una gioia serena, perché questo darà solo un tocco piccante al momento in cui tutto si rivelerà. Mi chiamo Carmela, ho 33 anni e vivo con mio marito, Alessandro. La nostra storia è iniziata con il lavoro. Dopo la scuola, ho immediatamente ottenuto un lavoro in un'azienda, dove ho accumulato esperienza un po' alla volta, e poi ho ricevuto preziosi certificati che mi hanno aperto la strada alla crescita della carriera. All'età di 21 anni ho assunto la carica di supervisore e, sebbene Alessandro fosse più grande di me, sono stato io a diventare il suo capo. Poi, è appena entrato in azienda e mi è stato assegnato il compito di insegnare a lui e ad altri due nuovi arrivati. All'inizio la nostra relazione era esclusivamente professionale, ma nel tempo ci siamo avvicinati. Presto abbiamo iniziato a frequentarci e la relazione ha trovato semplicità quotidiana quando siamo andati a vivere insieme. Tuttavia, anche allora ho notato che Alessandro è negligente nei confronti delle responsabilità, sia al lavoro che nella vita di tutti i giorni. Mi ha proposto in modo piuttosto persistente, sognando di lasciare il mio lavoro e concentrarmi sulla famiglia. Ha persino sognato immagini del nostro futuro in cui faccio casa e allevo bambini. Ma non avevo intenzione di arrendermi. La stabilità finanziaria e l'indipendenza significavano più per me dei suoi sogni di famiglia tradizionale. Abbiamo discusso a lungo sull'acquisto di una casa e sulla pianificazione dei futuri figli, ma ogni volta ho mantenuto la mia posizione. Il mio reddito ha superato il suo e non avevo intenzione di rinunciare alla mia carriera per gli ideali che ha disegnato nella sua immaginazione. Il nostro matrimonio non è stato facile, entrambe le famiglie si sono riunite e molti parenti si sono visti per la prima volta. La sorella di Alessandro, Francesca, è apparsa in ritardo alla nostra celebrazione. Entrò nella sala d'attesa senza bussare, come se possedesse tutto ciò che la circondava. Il suo sguardo di apprezzamento mi attraversò e sentì il disprezzo e il leggero ridicolo mescolati in quello sguardo. Chi ha scelto Alessandro? Un po' rustico rispetto alle sue ex ragazze, lanciò con un sorriso indifferente. Piacere di conoscerti, sono Francesca. La sua mano si alzò in aria in un tigro gesto di addio, e prima che potessi riscondere, uscì, lasciandosi dietro un pennacchio di fredda cortesia. Allora non sapevo ancora che Francesca sarebbe stata il catalizzatore del cambiamento che ora sta iniziando a svolgersi. C'era una chiara fiducia nella sua superiorità nelle sue parole e azioni, e ora mi rendo conto che quella fiducia si mutriva non solo della vecchia arroganza familiare, ma di qualcosa di più grande il piano che avevano in mente con Alessandro. All'inizio, Francesca mi ha impressionato come una donna schietta ma sicura di sé. Un po' più tardi, al nostro matrimonio, quando ho incontrato suo marito, mi è sembrato un uomo decente ed educato, educato, tranquillo, senza segni della familiarità che distingueva così tanto sua moglie. La cerimonia si è svolta senza intoppi e tutti sembravano felici, ma anche allora, in fondo, ero tormentato dalla sensazione di una sorta di minaccia lascusta rappresentata da queste persone. Dopo il matrimonio, Alessandro e io abbiamo finalmente trovato la casa dei nostri sogni. Era un'accollente villa a due piani con una spaziosa cucina e un giardino che mi sono subito innamorato. L'abbiamo comprato insieme, sebbene adessi investito la maggior parte dei soldi non ha conto e stipulato un mutuo. Alessandro ha insistito sul fatto che la casa fosse registrata solo a suo nome. Poi ho deciso che non importava molto, perché la cosa principale era che stavamo insieme e non volevo iniziare la vita familiare con discussioni vuote. Ma ora, guardando indietro, mi rendo conto che è stato un errore. Ci siamo sistemati e sono andato a capofitto nel lavoro, cercando di sostenere una carriera che è stata un pilastro per me per così tanto tempo. In un giorno normale, mi sono tuffata negli asfali quando all'improvviso suonò il campanello. Occupato, ho chiesto ad Alessandro di aprire. Pochi minuti dopo, tornò nell'atrio, ridendo e chiacchierando, e con lui apparve Francesca. Ehi, Carmela, lasciò cadire allegramente, camminando in casa come se fosse la padrona di casa qui. Come, Alessandro si è sistemato bene. Che grande casa ha? Si voltò verso suo fratello con un sorriso di approvazione. Va bene per te, piccola, continuò, dandogli una pacca sulla spalla. Dopotutto, sei il mio fratellino. Sì, ha lavorato sodo, rispose Alessandro con un sorriso compiaciuto. Ti senti a casa? Carmela, porta qualcosa da mangiare, eh? Ha aggiunto tra un caso e l'altro senza guardarmi. Le parole di Alessandro mi hanno colpito in modo sgradevole. Parlava della casa come se fosse esclusivamente suo merito, come se il mio contributo non significasse nulla. C'era una strana nota di arroganza nella sua voce. Non sapivo cosa mi irritasse di più, il suo tono o la facilità con cui Francesca lo prendeva per scontato. Mentre preparavo gli snack in cucina, ho colto la loro conversazione con il bordo dell'orecchio. Sai perché Carmela sembra così? Beh, prepotente. Vero? Alessandro ridacchiò. Il fatto è che è il mio capo al lavoro. Quando ho ottenuto un lavoro in azienda, era già una manager. Anche allora, tutti si chiedevano, come mai una ragazza subito dopo la scuola, ma già dirige? Se fossi in me, prenderei rapidamente il suo costo, sbussò Francesca. Mi dispiace di aver lasciato la scuola, ma niente, ho ancora più successo. E lei? Sì, capo, ma nella vita non è andato molto adanti. L'irritazione mi ha preso, ma mi sono trattenuto. Nulla nella loro conversazione mi dava motivo di conflitto, ma da esso emanava un sottile senso di disprezzo, specialmente da Francesca. Presto entrò in cucina come se fossimo vecchie amiche. Ehi, Carmela, disse allegramente, accoggiandosi al bordo del tavolo. Ho una richiesta per te. Ho bisogno di un po' di soldi. Bene, mille e cinque dollari. Cinquimila? Ho cercato di nascondere la sorpresa, ma la voce ha ancora rivelato i miei sentimenti. Non è assatto un po'. A cosa ti servono? Oh, va bene, agitò Francesca, come se fossi una sciocchezza. Solo per le riparazioni. Mio marito ed io non l'abbiamo calcolato un po' e ora dobbiamo coprire i costi. Sei un dirigente, probabilmente hai un buon stipendio. Alessandro ha detto che puoi darmi. Ha detto cosa? Alzai le sopracciglia, sentendo un'ondata di indignazione salire dentro. Sì, sì. Ha detto che non ti dispiaceva. Ha detto che se qualcosa non va, posso chiedertelo direttamente. La sua voce era leggera, ma suonava un ordine nascosto. Allora? E se mi rifiuto? Ho chiesto piano, sentendo che stavo iniziando a essere testato per sorza. Francesca si chinò un po' verso di me e un bagliore sreddo lampeggiò nei suoi occhi. Se ti rifiuti, chiamo il tuo capo. E ti dirò che lascerai il lavoro. Le parole suonarono dolcemente, quasi casualmente, ma sentivano una minaccia nascosta sotto una maschera di cordialità. Mi fermai, rendendomi conto che davanti a me si stava svolgendo qualcosa di più di una semplice richiesta di denaro. Quando Francesca si presentò la mattina dopo con i documenti che avevo chiesto, le fu letto il malcontento sul viso, ma lei ubbidì. Abbiamo redatto una nota di debito e, sebbene il suo comportamento sia rimasto sfacciato, ha firmato tutto senza ulteriori discussioni. Anche allora sapevo che era la decisione giusta. Le mie preoccupazioni per la sua onestà stavano solo aumentando, ma volevo tenere le cose sotto controllo, specialmente quando si trattava di somme considerevoli. Alessandro non sembrava vederne nulla di sospetto. Continuava a comportarsi come se tutte le sue decisioni fossero le uniche giuste, e sua sorella coteva usare i nostri soldi a suo piacimento. Quando Francesca tornò presto con una nuova richiesta ora aveva bisogno di più soldi, insistiti per una nuova cambiale. Ogni sua richiesta di denaro è stata accompagnata da stanchezza mentale, ma non mi sono arresa. Nel corso del tempo, l'importo che ha preso in prestito ha superato i 112 mila dollari e questo ha iniziato a deprimermi. Sembrava che questo debito stesse diventando un peso insopportabile, sia finanziariamente che moralmente. Una volta al lavoro, mi è stata data una felice notizia. Stavo per essere promosso da supervisore a manager e è stato un evento gradito a cui ho camminato per molti anni. Sono tornata a casa con l'entusiasmo, piena del desiderio di condividere il successo con Alessandro. Alessandro, indovina un po'. Ho iniziato, entrando in casa con un sorriso gioioso sul viso. Il mio capo mi ha suggerito di diventare capo di partimento. È così importante per me. È un passo verso il mio sogno di diventare un manager principale. Ma invece di gioia, un'espressione apparve sul suo viso che mi fece disfidare. Hai accettato l'offerta? Ha chiesto sreddamente. Sì, certo, te l'ho detto dei miei piani, risposi, un po' confusa, non aspettandomi una tale reazione. Ma avresti dovuto chiedere il mio permesso prima di prendere quella decisione. La sua voce è diventata più acuta. Ti ho detto che volevo che diventassi una casalinga. Perché continui a essere promosso e io rimango nella stessa posizione. Ho cercato di spiegare che questa era la mia aspirazione, che ho sempre detto chiaramente che non volevo lasciare il lavoro, ma Alessandro non ha ascoltato. Il suo risentimento e la sua gelosia rientivano lo spazio tra di noi come una fitta nebbia che non riuscivo a dissipare. Poco dopo la nostra conversazione, ha chiamato e ho indovinato a chi. Abbastanza sicuro, pochi minuti dopo, abbiamo sua sorella, Francesca, pronta come sempre a intervenire nei nostri affari. Beh, ho sentito che hai rubato ad Alessandro l'opportunità di essere promosso, ha detto, barcando la solle della casa e gettandomi uno sguardo pieno di disprezzo. Come hai potuto farlo? Pensi seriamente di meritare più di lui? Non ho rubato nulla, risposi piano, cercando di rimanere calmo. L'aumento nella nostra azienda si basa sui risultati delle prestazioni. Francesca sbussò le sue labbra contorte in un sorriso. Quindi stai dicendo che Alessandro è incompetente? Come osi parlare di tuo marito in questo modo? E senza darmi la possibilità di riscondere, si diresse decisamente verso la mia borsa, che era sul tavolo. Alessandro rimase in piedi e non tentò nemmeno di fermarla. Ero sbalordito, ma non era la cosa teggiore. Francesca tirò fuori senza tante cerimonie la mia carta di credito e dichiarò che avrebbero preso il barbecue a mie spese. Ho cercato di resistere, ma erano due contro uno. Le lacrime si avvicinarono agli occhi mentre se ne andavano, ridendo come se fosse uno scherzo normale. Una volta sola, mi sono reso conto che non potevo più tollerare questo tipo di comportamento. Stavo cercando disperatamente una via d'uscita da questa situazione mentre pensavo al divorzio. Avevo bisogno di trovare un avvocato che mi aiutasse a liberarmi di questo incubo. Il giorno dopo, quando sono arrivata al lavoro, Alessandro era già lì. Si avvicinò a me con un sorriso compiaciuto e, mostrando un assegno dal ristorante, ha detto, ieri è stato fantastico. Grazie per la sorpresa, Carmela. Abbiamo mangiato bene con i tuoi soldi. Ho dato un'occhiata all'assegno e ho sentito la mia pazienza al limite. L'importo era sbalorditivo, 1200 dollari per cena in un ristorante di lusso. Ma non era tutto. Ho trovato assegni da 6000 dollari dai bar di lusso che hanno visitato dopo. Per tutto il tempo ho saputo che la loro sfacciataggine non aveva limiti, ma quello che è successo ora mi ha finalmente convinto. Questa famiglia vive secondo le sue regole ed è ora che smetta di essere vittima delle loro manipolazioni. Sono tornato a casa e il pensiero di quanti soldi sono stati spesi non mi ha lasciato andare. Quando ho controllato il saldo del mio conto, il mio cuore è andato ai talluni, 88 mila dollari sono stati prelevati da esso. All'inizio non potevo credere ai miei occhi, ma i numeri non mentivano. Era l'ultima frontiera che non potevo più sopportare. Quando Alessandro tornò a casa, mi acciditai immediatamente da lui con domande. Alessandro, cosa stavi pensando quando hai speso 8000 dollari per un barbecue alla moda e ancora di più per bar di lusso? Sono i miei soldi, quello che ho risparmiato per anni. La sua reazione è stata al limite indissorente. Beh, beh, li ho già spesi e non c'è niente che tu possa fare al riguardo. Non si è nemmeno preoccupato di scusarsi. Detto questo, corsi in bagno come se stisse cercando di evitare la responsabilità. La mia pazienza si è finalmente esaurita. Questo è stato il tocco finale nel dipinto del suo egoismo e indissorenza. Il divorzio è diventato inevitabile e ho immediatamente preso un appuntamento con un avvocato. Sono passate settimane. I preparativi per il divorzio erano in pieno svolgimento e il rapporto con Alessandro divenne sempre più distaccato. Cornava sempre più a casa tardi, evitando di incontrarmi. Durante il fine settimana, è scomparso senza spiegare dove stava andando, e questo ha solo aumentato il mio sospetto. Buonasera ho ricevuto una telefonata da Maurizio, il marito di Francesca. Raramente comunicavamo e la sua chiamata mi ha sorpreso. Ciao Carmela, sono Maurizio, iniziò, la sua voce suonava tesa. So che chiamo raramente, ma devo discutere di qualcosa. Ciao, Maurizio. Cos'è successo? Francesca è tornata a casa molto tardi ultimamente e se leva nei fine settimana senza spiegarmi nulla. Quando le ho chiesto, ha detto che era con Alessandro. Il mio cuore si strinse. Anche Alessandro si è comportato in modo sospetto. Non potevo credere che potessero passare del tempo insieme senza avvisarci. Forse entrambi stanno pianificando qualcosa, ma non sono più a fare i miei. Maurizio esitò, poi continuò. Carmela, mi dispiace che tu stia attraversando tutto questo. Ad essere onesti, ho pensato al divorzio per un po' di tempo, ma non sono riuscito a decidere su questo. Sospirò, sentendo il suo dolore. Sapevo com'era essere intrappolato in una relazione complicata. Maurizio, devi agire anche tu. Non è giusto sopportare tutto. Possiamo coordinare le nostre azioni. Maurizio pensò, poi estirò sollerato. Hai ragione. Ci penserò. Francesca in qualche modo ha menzionato il viaggio e mi ha convinto a fare una lunga vacanza, ma c'è qualcosa che non va qui. Dopo quella conversazione, ho iniziato a sospettare che Alessandro e Francesca stissero da Biro pianificando qualcosa di serio. Ho deciso di fare una piccola indagile. Avvicinandomi allo scaffale che Alessandro mi aveva sempre detto di non toccare, ho trovato alcuni opuscoli turistici e carte club. Ciò ha confermato le mie ipotesi. Il giorno dopo, ho raccontato a Maurizio delle mie scoperte. Abbiamo sviluppato un piano d'azione per monitorare i loro movimenti. Abbiamo deciso di scambiarci messaggi e tenerci aggiornati. Inoltre, gli ho dato tutte le prove possibili che potrebbero essere utili nel nostro futuro divorzio. Dopo un paio di settimane, Alessandro lasciò di nuovo presto la casa. Maurizio mi ha informato il giorno prima che Francesca aveva piani simili. Poche ore dopo, Alessandro chiamò. Carmela, me le vado con mia sorella e le sue amiche. Non aspettarmi. La sua voce era indistorente, come se niente di tutto ciò avesse importanza. Ho sentito che qualcosa non andava. Tutto stava andando troppo liscio, come se il velo di una misteriosa collusione si fosse sempre più condensato intorno a me. Sospettavo che Alessandro e Francesca avessero in mente qualcosa di più di un semplice viaggio, e la mia ansia interiore cresceva ogni ora che passava. A quel punto, il telefono nelle mie mani tremò per un altro messaggio. Era Alessandro. Le sue parole suonavano aspre. Non l'hai ancora capito? L'abbiamo pianificato molto tempo sa. Maurizio era il nostro piano di riserva, nel caso in cui tutto andasse storto. Sei diventata troppo arrogante ultimamente. È ora di insegnarti una lezione. Le mie mani tremavano per un improvviso attacco di rabbia. Cosa si permette? Come si può manipolare la vita degli altri in questo modo e considerarla normale? Non puoi più affrontarci, ha aggiunto con fredda fiducia. Ho succoltato per così tanto tempo, mormorai nel vuoto della stanza, sentendo la delusione e la rabbia fundersi in un dolore stretto. È finita. La mia pazienza era finita e non avevo intenzione di cedere di più. Ho iniziato a prepararmi per l'ultimo passo, un momento che cambierà il corso delle cose una volta per tutte. Ma prima di agire, ho deciso di aspettare che le mie ipotesi fossero confermate. Quando ho chiesto ad Alessandro di spiegare dove aveva preso la carta che usava per i suoi viaggi, la sua riscusta si è rivelata assurda. Ha ammesso di aver appena preso la mia vecchia tessera del fitness club senza doversi preoccupare di controllarla. Ho sentito il ridicolo scoppiare dentro di me. Quindi eccoti, dissi ad altavocio, non mi sono nemmeno preoccupato di vedere cosa hai in mano. Non sai nemmeno come manipolare correttamente, Alessandro. Alessandro cercò di giustificarsi, ma tutto ciò che poteva dire era privo di significato. Ha ammesso che Francesca era coinvolta in questa trussa, ma anche questa non è stata una sorpresa per me. Stavo solo aspettando il momento in cui cotevo raccontare a Maurizio quello che avevo imparato. Il telesolo vibrò di nuovo. Era Alessandro, continuava a insistere, sono arrivati i soldi, Carmela. Sto congelando qui. Siamo in Alaska ed è semplicemente insopportabilmente sreddo. Sorrisi mentre guardavo lo schermo. Pensavano che li avrei aiutati? Credevano di potermi ancora manipolare? Non potevo contenere la mia gioia gongolante, perché il mio piano ha funzionato perfettamente. Alessandro continuò a supplicare. Maurizio ti ha aiutato anche tu, vero? È qui con noi. Ma qualcosa è andato storto. Siamo bloccati qui al sreddo. Non hai idea di quanto ci sentiamo male in questo momento. Non ho potuto resistere alla riscosta vittoriosa. Sì, Maurizio mi ha aiutato. Ma sai una cosa? È già su un altro aereo. Mentre tu e Francesca vi godelate il vostro triunfo, mi sono assicurata che la vostra trappola si chiudesse. Ora cerca la tua strada per tornare indietro. In quel momento, mi sono sentita sulle lata. Ho deciso di chiamare il mio avvocato. Avevamo un ultimo appuntamento per il divorzio che volevo fare prima che Alessandro e la sua compagnia tornassero. Ho sentito che dovevo prepararmi per questo momento per sciogliere finalmente questo nodo. In fondo, ho capito che dopo quello che è successo, il nostro rapporto con Alessandro non è più stato ripristilato. Quando entrai nell'ufficio dell'avvocato, mi incontrò con un sorriso comprensivo. Era un uomo con resistenza e un sottile senso di atto che ispirava immediatamente fiducia. Abbiamo discusso gli ultimi dettagli e ha ascoltato attentamente il mio piano d'azione. Ho espresso con sicurezza la mia posizione e lui ha convenuto che era l'unica strada giusta da percorrere. Presto sul tavolo davanti a noi c'erano tutti i documenti necessari, pronti per la firma. Poche ore dopo, sono tornato a casa, preparando tutto per l'incontro. Sapevo che Alessandro e i suoi compagni sarebbero tornati con facce indignate, non capendo cosa li stesse aspettando. Una volta emersi, le urle e le indignazioni non tardarono ad arrivare. Carmela! Che diavolo? Cosa stavi pensando? Alessandro gridò, la sua voce era piena di malizia e perplessità. Sii pronto a partire, risposi con calma, reprimendo l'eccitazione interiore. Maurizio è già con te, no? Non ti aspettavi che scinisse così? Alessandro si bloccò, i suoi occhi spalancati di sorpresa. Non sapeva come rispondere. I suoi compagni sussurrarono, chiaramente non catendo cosa stesse succedendo. Erano abituati a vedermi debole e compiacente, ma ora le cose sono cambiate. Perché sei tornato per primo? La sua voce tremava di confusione. Come è mai successo? Cosa stai facendo? In quel momento Maurizio, calmo e sicuro di sé, entrò nella stanza e si seditte accanto a me. La sua presenza sicura ha immediatamente rassreddato Alessandro e la sua compagnia. I miei nervi, tesi come cord, cominciarono a rilassarsi a poco a poco, mi sentivo sicuro accanto alla persona che stava al mio fianco. Chiudi la bocca e siediti. Maurizio improvvisamente interruppe bruscamente tutte le indignazioni di Alessandro. Dobbiamo tutti parlare seriamente. Alessandro rimase sbalordito. Chiaramente non si aspettava di sentire quel tono dal suo vecchio amico. Con gli altri, si sedette, ancora incerto su cosa stesse succedendo. Il mio avvocato si alzò e distribui biglietti da visita a tutti i presenti. Alessandro e i suoi compagni li guardarono perplessi, ignari della portata di ciò che stava accadendo. Tutto era veloce e chiaro. Poi una pila di documenti giaceva davanti a loro documenti sul divorzio. È uno scherzo? Chiese Alessandro. Il suo viso cominciò a perdere colore. Divorzio? Cosa ho fatto? Divorzio, ho ripetuto freddamente. Sai cosa hai fatto? I suoi compagni iniziarono a spostarsi da un piede all'altro, rendendosi conto che la situazione stava sfuggendo al loro controllo. I loro volti impallidirono come se avessero visto un fantasma. Si sono resi conto che non era solo un battibecco, era un finale. Divorzio? Non puoi essere serio, Carmela. Continuò Alessandro, anche se la sua voce non suonava più sicura come una volta. Maurizio, non la sosterrai, vero? No, Alessandro, rispose Maurizio con calma. La sosterrò. Ti vedo da un po' di tempo. È colpa tua se tutto è andato così lontano. Alessandro sembrava finalmente confuso. Il suo viso era cilereo. Non sapeva cosa dire e iniziò a esaminare i documenti. Chiedo la metà dell'acconto che abbiamo fatto quando abbiamo comprato la casa, ho continuato, impedendogli di riprendersi. Il resto del mutuo è il rimborso dei miei risparmi che hai sprecato quando ero sola. Giusto, hai intenzione di ripagare il dibito. Sembrava calmo, ma fermo. Guardai dritto negli occhi di Alessandro, vedendo un'ombra di dubbio che gli attraversava il viso. No, aspetta. Ha iniziato, la sua voce è diventata più nervosa. Non ho comprato questa casa e non ho mai preso in prestito. Queste sono tutte false accuse. Il suo viso era contorto per il risentimento e la sua voce cominciò a tremare, come quella di una bestia all'estretto. Francesca, controlla tutti i documenti. Si precipitò al tavolo, ma con ogni sua mossa era chiaro, sapeva già di aver perso. Francesca si avvicinò ai documenti che avevo consegnato tramite un avvocato e, guardando la cambiale, ansimò piano. Era l'importo che aveva prestato ad Alessandro e la sua firma era in fundo. Pura sembrava persa, non sapendo come reagire a ciò che stava accadendo. Sinora, in nessun caso, non ne so nulla. Alessandro ha cercato di aggrapparsi agli ultimi resti della sua dignità. Se non ci sono prove, cosa devo fare con questo pezzo di carta? Detto questo, ha fatto un passo sul registratore che avevo preparato in anticipo, cercando di distruggere un nastro che potesse servire come prova chiave in tribunale. Michael, seduto nelle vicinanze, strappò rapidamente la carta a pezzi. I loro occhi si incontrarono e vidi un'espressione compiaciuta sui loro volti. Pensavano di aver vinto, di essersi sbarazzati delle prove con l'inganno. Alessandro, pensi davvero che sia così facile liberarsene? Ho alzato le sopracciglia, sentendomi sicuro. Tutti i dati sono già sul computer. E quella carta, il Michael, non era nemmeno l'originale. Pensi davvero che funzionerà? I loro volti compiaciuti impallidirono, rendendosi conto di essere stati catturati. C'era tensione nella stanza. Alessandro non sapeva dove andare. Il suo compagno era in piedi accanto, non rendendosi conto di come si è svolto questo gioco. Francesca, ho continuato. Eri consapevole di tutto. Mi hai aiutato a spendere i miei risparmi. Non pensare che possa farla franca. Eh sì, saluta quel ragazzo con cui ti sei avvicinato così tanto al bar. Pensi che non lo sapessi? Alessandro e Francesca iniziarono a piangere scudoratamente, come se avessero appena realizzato la profondità dei loro errori. Ma per me era troppo tardi. Sapevo che era giunto il momento di porre fine alle loro manipolazioni e bugie. Ho continuato a delineare i reclami finanziari. L'importo era di 115.000 dollari, inclusi 5.000 per danni a motivi, 100.000 per un acconto sulla casa e 10.000 per altre spese. I debiti e i prestiti che hanno accumulato sono diventati una vera zavorra. E poi sono stati aggiunti 120.000 dollari, che Maurizio ha dovuto restituire a Francesca per le sue azioni intenzionali. Pensavate entrambi di poter partire impuniti, aggiunse Maurizio, che per tutto questo tempo si sedette accanto e osservò attentamente ogni passo. Ma non sarà facile. Perdi se fai causa e nessuno vuole rappresentarti. Anche l'avvocato non ha rallentato con la risposta. Ha indicato le ultime righe del contratto, dove si diceva, se fanno causa, questo sarà per loro una perdita enorme. Nessuno voleva approfondire ulteriormente questo conflitto. L'abbiamo risolto senza processo ed è stato tutto finito. Ho sfacco le valigie e ho lasciato la casa, sentendomi come se la pietra che indossavo sulla mia anima fosse finalmente scomparsa. Sono passate alcune settimane da quando ho sentito voci sul trasferimento di Alessandro in un'altra cidiale. Stava cercando di ricostruire la sua vita, ma non mi importava più. Volevo solo continuare la mia. Improvvisamente un giorno arrivò un messaggio da lui. Carmela, voglio vederti. Non avrei mai pensato che la vita senza di te sarebbe stata così sola. Forse proveremo a ricominciare tutto da cato? Ho chiuso il telefono senza pensarci due volte. Era finita.